benvenuti sul mio canale tutto dal web alba parietti cambia look e non è la prima volta che si affida federico fashion style nelle ultime ore infatti la conduttrice televisiva showgirl ha sfoggiato sui social il suo ultimo look che la vede completamente trasformata quasi irriconoscibile alba poi ha condiviso alcune storie mentre la si vede nel salone di federico intenta a fare i capelli osservando gli scatti e le immagini che adesso vedrete anche voi pare che alba si sia fatta applicare dell'exation i suoi capelli risultano di fatti più lunghi rispetto al solito oltre che di un diverso colore alba infatti ha di fatto optato per un biondo platino con le che richiamano invece il suo colore naturale dei capelli come potete notare voi stessi dalle foto che vi sto mostrando quello della pariette è un bel cambiamento soprattutto per chi la ricorda con i capelli scuri la showgirl ha di fatti portato per anni i capelli castani essendo quello il suo colore naturale da un po tuttavia alba è passata al biondo entrambe le tinte comunque le donano decisamente e a pensare che ha 63 anni ma sembra una donna una ragazza di 30 e voi cosa ne pensate commentate se vi va giù nei commenti io vi aspetto come sempre lasciami un like e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima